ciao domenica sera sono le otto di sera sto chiudendo il negozio dopo una giornata una bella domenica di zona arancione dopo una settimana zona rossa sono soddisfatto perché c'è stata una bella affluenza di persone tante persone sono venute a trovarci abbiamo lavorato bene sono un po stanco ma soddisfatto un cliente un amico un frequentatore assiduo che mi conosce mi segue sui social e mi conosce da tempo mi ha chiesto ma massimo dove trovi la motivazione cioè dove trovi la motivazione di scrivere dove trovi la motivazione di fare video perché per esempio ti metti a fare un video alle 8 di sera dopo 12 ore di lavoro che parla di lavoro e che parla del tuo negozio dopo 12 ore che sei nel negozio semplice gli ho spiegato perché motivazione non è nient'altro che un termine composto da due nomi due termini il primo è motivo il secondo è azione cioè gli ho spiegato io ho un motivo forte che mi spinge a fare quello che faccio ho un motivo chiaro integrato completamente con la mia identità ed è integrato completamente con i miei valori quindi io so che perseguendo l'obiettivo che sto perseguendo soddisfo completamente i miei bisogni quindi sono consapevole di quello che faccio e lo sto facendo perché questo è quello che voglio fare ed è quello che ho ho voluto fare per me stesso e in più un piano d'azione mi sono creato nel tempo un piano d'azione quando ho capito che nel tempo mi mancavano delle competenze mi mancavano delle conoscenze mi mancava qualcosa sono andato a cercamelo ho studiato ho cercato ho fatto formazione ho speso dei soldi informazione ho speso del tempo ho impiegato notti a studiare e per per capire per assumere le competenze che non avevo e o magari per per migliorare alcuni modi di pensare o di vedere che erano magari viziati o ed erano magari non in linea con quello che volevo essere o con quello che volevo fare quindi motivazione non è niente non è nient'altro che avere un motivo preciso chiaro lucido caldo emozionante qualcosa che ti faccia star bene ed avere un piano d'azione ed essere disposto a sacrificarti quindi a rendere sacro ciò che fai per raggiungere gli obiettivi ad avere costanza ed avere anche la voglia anche di imparare di studiare di metterti in gioco e di e di sacrificare magari qualcosa per un bene più alto che è il raggiungimento di un obiettivo che sai che una volta raggiunto ti farà stare meglio ma è è il viaggio è il percorso che faccio che mi fa stare bene cioè quello che sto facendo io fare un video comunicarti quello che sto comunicando è qualcosa che mi fa crescere qualcosa che mi fa star bene è qualcosa che mi fa completare una parte mancante quindi se faccio qualcosa lo faccio con un obiettivo ben preciso ben chiaro che è qualcosa che completa qualcos'altro o che è un tassello in un in un disegno preciso che ho della mia vita e del mio modo di lavorare uno degli obiettivi principali è quello per esempio di svegliarti è quello di sensibilizzarti è quello di farti capire per esempio che se hai tante cose da vendere in casa qualcosa che non utilizzi più tutte quelle cose lì sono cose inutili sono cose che per te sono inutili hanno un valore zero mentre per altre persone possono avere un valore possono avere un valore per per te perché comunque guadagni qualcosa rivendendole possono avere avere un valore per l'ambiente perché il non spreco di queste cose naturalmente sarebbe sarebbe un beneficio per l'ambiente che non viene inquinato nella nello smaltimento e nella riproduzione di altre cose dello stesso della stessa qualità dello stesso utilizzo non vengono spostate queste cose le cose nuove prodotte vengono spostate con i cagli con i mezzi che inquinano invece una vendita in un negozio dell'usato non ha nessun spostamento di mezzi o comunque molto ridotti sempre comunque a chilometri zero o nel bacino d'utenza circostante quindi ho un obiettivo ben preciso che è quello di romperti le scatole tutti i giorni di farti capire che io faccio il mio lavoro lo faccio mi piace mi piace farlo bene ci metto la professionalità il tuo obiettivo è quello di capire se posso esserti utile se vuoi fare questa cosa qua se vuoi vendere cose se se tutti i giorni senti uno che ti dice ma vendi le cose che non ti servono più ma vendile che magari ci guadagni qualche soldi ma vendile che magari qualcuno potrebbe riutilizzarle ma vendile che magari queste cose qua lì dove le hai valgono zero stanno marcendo le butti via sono da buttare poi ti dispiace di più che non averle portate in negozio se non hai tempo non ti preoccupare ci penso io chiamami troviamo troviamo una soluzione portamele qua vengo a prenderle io fai le scatole faccia quello che vuoi c'è l'importante che tu ti svegli e capisci che le cose che non utilizzi hanno un valore e se invece lasci lì questo valore è zero io posso aiutarti a risolvere questa cosa e tu mi aiuterai a risolvere i miei obiettivi che sono quelli di rendere il riuso sempre più facile e sempre più alla portata di tutti ciao